E' finita ragazzi, bellissima partita, tantissime occasioni tra Sassuolo e Torino ragazzi, finita 1-1 E' una partita ragazzi in cui mi sono veramente divertito, ragazzi pensavo che il Torino avesse giocato più, cioè giocasse più diciamo più difensivamente Questa partita almeno nel primo tempo soprattutto ha giocato in modo molto offensivo, creando molto però nel primo tempo non è riuscito ad andare a segno Un Torino ragazzi che ha partito subito forte, con tantissime occasioni, con un raggio, che questo è stato veramente finalmente ragazzi un giocatore importante Che ha fatto la differenza con la sua qualità e con la sua tecnica, ha messo in difficoltà tutta la difesa del Sassuolo Con i suoi inserimenti, senza palla, palla al piede, ha avuto tante occasioni, ha creato tante occasioni per i suoi compagni Ha stato veramente il fulcro del gioco del Torino, il migliore in campo secondo me in generale E il Torino ragazzi parte subito forte con un Tio di Vlasi, sta dentro l'area grandissima parata di consigli Con la mano aperta, grandissima risposta Poi ragazzi il Toro continua, 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 stacco di testa di Sanabria sul corner di Ricci Il Pone ragazzi è ballato di pochissimo Poi ragazzi altra grandissima occasione, questa volta sui piedi di Radonic Che ragazzi inventa dal nulla Sanabria, proprio per Radonic che ragazzi entra in area e col destro Schianta un grandissimo tiro, schianta la traversa ragazzi, sfortunato del Toro Che ha avuto 3-4 uniti per palle gol in 20 minuti, nei primi 20 minuti del primo tempo Ma non è riuscito ragazzi a sfruttarle, a buttarle in rete E alla prima occasione ragazzi se solo passa in vantaggio Dopo un tiro di Berardi, facilmente preso da Milinkovic Poco dopo riesce a trovare il vantaggio con una grande, solita giocata di Berardi Dalla destra che converge sul centro del campo Mancino sul secondo parlo, lascia partire un grandissimo sinistro Grandissima risposta di Milinkovic, ma ragazzi sono ribattuta Il più lesto da arrivarci è Pinamonti che a porta vuoto fa il gol dell'1-0 Il quinto gol in campionato mi sembra del talento azzurro Quindi però se ragazzi ha la responsabilità di Singo Che ragazzi non segue Pinamonti sulla ribattuta Che è più bravo ad arrivare sulla seconda palla Ragazzi l'esterno del Torino doveva leggere prima E capire già che il pallone poteva andare lì Perché ragazzi bisogna essere comunque bravi in preventiva Non lo è stato, Singo ha fatto una grande partita macchiata da questo errore abbastanza banale Perché ragazzi lì deve arrivare prima E Singo ha partito soprattutto offensivamente Ha vinto tutti i due a testa, tante incursioni, palla al piede È molto molto bravo Però il gol ragazzi gli manca per la prestazione E poi comunque dopo il gol subito è calato Poi ragazzi finisce così il primo tempo Il secondo tempo sempre di marca Torino Che sfiora il gol ancora con Radius Che fa una serpentina calamorosa dove mette a sedere tutta la difesa del Sassuolo Poi ragazzi tira Ferrari Riesce ragazzi a fare un intervento incredibile E salvare la sua porta Poi il Sassuolo ha anche qualche altra occasione Con Berardi, Maxime Lopez Che ha fatto un partitone Maxime Lopez e Fratesi in mezzo al campo Soprattutto Lopez Lopez è stato l'ago della bilancia ragazzi Appena è rientrato lui il Sassuolo è tornato a vincere A vincere e vincere Quindi ragazzi un motivo ci sarà Grandissimi giocatori lì in mezzo al campo Fratesi, Maxime Lopez che è centrocampo Da urlo Da urlo E non da meno Ricci di niente che ha fatto un partitone Il punto di Ricci che a me piace tantissimo Comunque ragazzi il polio di Sassuolo Gli hanno un gol per un piede in fuori gioco di Laurentiè Grandissimo polio di Maxime Lopez per Laurentiè Che poi ragazzi fa un gol Freddissimo davanti a Milikos Ma ragazzi è fuori gioco C'è di centimetri Del francese E ragazzi da lì Poco dopo trova il gol Torino Grandissimo pallone Grandissima azione di Linetti Ragazzi regge Fisicamente Serve per Rodriguez Ragazzi che mette in mezzo il pallone Pallone passa tutta l'area di rigore Sulla dibattuta C'è sull'altro lato di Valasaro Il più lesto La mette in mezzo Vlages non ci arriva Ma ci arriva Sanave Che intorsione Fa un gol dei suoi Un gol incredibile di testa Un rapace da dare Un giocatore fenomenale Anthony Sanave Un giocatore che io veramente ammiro L'avevo preso due anni fa Quando è arrivato al Torino E' fatto a calcio Ragazzi E' veramente un giocatore Spettacolare Un attaccante Che tutte le squadre vorrebbero avere Magari non è un bomber di razza Ma ragazzi E' un giocatore che ti fa giocare bene la squadra Un giocatore fantasmagorico E poi ragazzi C'è stato rato Minaccio mi ha fatto abbastanza male Un pochino in pantofole Sono entrato L'ultima mezz'ora Un pochino così Ragazzi Il Sassuolo ha provato di più Ma non ci sono state grandissime occasioni Di un squadre che sono accontentato Del pareggio Il Torino Gli andava bene il pareggio Ho visto comunque Com'è andata la partita Alla fine il pareggio giusto Primo tempo ha dominato dal Torino Secondo tempo ha dominato dal Sassuolo Praticamente Con qualcosa di più Tornato dal Torino Però ragazzi ci sta Questo ragazzi Noi vedete Cosa ne pensate Noi vedete Anche ragazzi Quando non segna Che cazzo di parito ha fatto Sulla sinistra Ha fatto ammattire Tutti quelli che Che hanno provato a fermarlo Perché ragazzi E' infermabile In tutti i modi Beh a tutti Ci vediamo al prossimo video